Posso dirvi, grazie perché è un'accoglienza del genere incredibile, sono felice di aver scelto Catania per la mia prima domenica del genere. A casa! A casa! A casa! A casa! Il 40 e 42 milioni che si ha rubato la rega! A casa! A casa! A casa! Tantista! 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 E viva il ministro dell'interno! Matteo! 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 Non passerò un'estate assistendo a sbarchi continui e a mancate espulsioni come è accaduto negli ultimi anni. Non sono proclami, è quello su cui abbiamo chiesto i voti, è quello su cui abbiamo vinto le elezioni, è quello su cui daremo risposte concrete. Io non voglio che anneghi nessuno e che muoia nessuno. Queste persone annegano e muoiono perché qualcuno le mette su questi gommoni dopo averli estorto a 5, 6, 7, 8 mila euro, gli udendoli che in Italia ci sia uno a casa e un lavoro che li aspetta. Io voglio che tutti siano salvate, ma lavorerò perché meno gente parta e meno gente debba essere salvata. Matteo! Io accadevo i primi! Il nostro impegno è difendere tutti della nostra terra e del nostro mare. In bocca al lupo ai candidati di Catania, in bocca al lupo a salvo. E un saluto agli amici del Partito Democratico che hanno la loro ultima settimana di governo in comune, d'altronde hanno perso ovunque e perderanno anche in Catania se ne facciano una ragione. Deci! Ho! Che! 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 Grazie.